ma era aperto prima non c'era niente ma no ero dentro anche prima adesso sono girato apposta scusi però lei si deve qualificare lei sta dicendo a uno di togliersi di qua ma lei lavora qui è un responsabile direttore dei lavori non solo di fare la stessa identità questa mi pare una semplice provocazione per favore la potete fare lì due metri più in là no perchè due metri più in là viene fuori che qua era concluso la cosa c'entra di quello che dobbiamo dire era aperto siccome stiamo facendo una denuncia hanno fatto lo scavo e adesso stanno mettendo le recinzioni quindi questo non c'entra niente è un'area consegnata è un'area consegnata e dov'è il cartello? se l'hanno strappato lo stiamo riportando chi l'ha strappato? nessuno l'ha mai visto sul cartello adesso sta mettendo la recinzione stavattina c'era gente c'era gente con i cani stavattina qui c'era una segnata in accordo con le due aree dialettiche chiamateli e vedete sempre allora la c'è la Dicos Rovelli se gli devi dire qualcosa sta arrivando la Dicos sta arrivando la Dicos come sono i cani che potevano andare loro invece sostengono che era chiusa io gli ho detto ma se era più, io come ho fatto entrare comunque noi siamo a fare una derunca adesso lui era aperto, mi sembra che come ci caschino non siamo a un solito adesso è bene con il riconoscimento se il signor riesce a risolvere no ma io riesco perché me lo dice lui non perché me lo dice lui è diverso oh no è diverso